Fare politica a Salerno e farla nel centro-destra è più difficile che altrove perché bisogna fare i conti col sistema di potere del Lucchiano. Forza Italia continua nella campagna a sostegno del no al referendum di dicembre presso la sede provinciale di Via dei Principati. Ha fatto tappa il capogruppo in regione Campania, Armando Cesaro. Noi dobbiamo andare a Casarenzi e quindi già questo è un motivo più che valido per votare no a un leader che vuole cambiare la Costituzione senza mai essere eletto. E' una pagliacciata, una riforma che non taglia niente, una riforma che dà soltanto più potere al Premier e quindi a lui che è messo lì dai poteri forti. Invece la partita regionale dove Forza Italia è fieramente all'opposizione? Forza Italia è fieramente all'opposizione. Ritengo che stiamo facendo anche un buon lavoro. Un'opposizione ovviamente non un'opposizione in sé a prescindere ma un'opposizione sul merito delle cose, un'opposizione che propone anche le cose. I progetti che lui porta a Salerno e priva alle altre province di Napoli. Ovviamente Salerno va rispettata perché è una grande città, però neanche possiamo trasformare Salerno come capologo di provincia.